ciao ragazzi spero che siate bene volevo fare un piccolo vlog di aggiornamento dal momento che il canale è stato praticamente in pilota automatico per una settimana abbondante sono ancora in viaggio qui mi vedete a North Beach, Miami Beach, molto bello questo questo fine settimana dopo una settimana di lavoro in realtà da tutt'altra parte sempre qui in Florida e per questo motivo lo sapete non sono stato in live ma sto pensando di tornare sono a casa lunedì mattina quindi poi faremo probabilmente una live insieme in settimana e nulla quindi come sapete il fine settimana di solito facciamo il nostro vloghettino questa volta cascava bene secondo me farvi vedere un pochino questa meraviglia di cielo sono 30 gradi per sapere che quando sono partito dall'aeroporto di Monaco c'erano meno un grado e nevicava sono partito con la giacca adesso come vedete la giacca l'ho lasciata in valigia fantastico fantastico qua non ci vivrei mai però per un weekend è qualcosa di bello comunque ho seguito tutti i vostri commenti eccetera l'unica cosa che avete visto ha fatto molta fatica a rispondere perché non avendo una connessione internet sul telefono devo sempre per forza di cose andare a rubare i wifi di vari ristoranti rido perché c'è un collega che nel frattempo mi sta riprendendo e questa cosa fa ridere comunque niente non ci sono tantissime novità se non che mi vedete finalmente rilassato adesso vi faccio vedere l'oceano se riesco questo sarà il tema di oggi e possiamo magari pensare di fare un Q&A nella prossima live visto che sono stato lontano da tutti i giochi non ho il portatile qui se non quello di lavoro quindi è anche buono per me per fare un po di detox digitale se la vogliamo mettere così e quindi diciamo che tornare giocando no devo pensarci un attimo lo faremo magari dopo pasqua però sicuramente avremo modo di fare un po di domande risposte magari possiamo usare i commenti di questo vlog allora per per impostare la chiacchierata della prossima live poi se vi piace la metto anche su youtube questo penso sicuramente qui comunque è un mondo parallelo io non sapevo nemmeno che Miami Beach fosse una città diversa rispetto a Miami credo fossero la stessa cosa Miami è gigantesca non ci sono neanche stato sono sempre stato qui a North Beach che veramente merita tantissimo adesso vediamo se riesco a farvi vedere se riesco a entrare qui vi mostro un po di un po di oceano atlantico mentre sto camminando con le scarpe su la sabbia ma quello non è un problema e non mi sono portato neanche il costume tanto per farvi capire quanto sono quanto ero pronto a venire qua però dicevo città spettacolare è la versione di vita reale di Vice City di GTA V e adesso vi saluto facendovi vedere quello che si parla di fronte ai miei occhi adesso vediamo di di girare il video e da Miami è tutto ragazzi ci vediamo presto con i commenti non vedo l'ora di rivedervi e di salutarvi virtualmente in live a presto